Con la visita odierna del Presidente Capellaci ad Asiago e l'incontro con le autorità locali si darà finalmente corpo a quel progetto di recupero dei siti storici della Brigata Sassari presenti sull'alto piano dei sette comuni. Una forma di rinnovata amicizia fra due regioni distante fra di loro eppure accomunate dagli eventi tragici della Prima Guerra Mondiale nel ricordo dei nostri predecessori che sono venuti a combattere e a morire per la libertà di queste terre. Il progetto di recupero dei siti storici della Brigata Sassari nasce da un'iniziativa congiunta tra i comuni di Asiago e Fossa sull'alto piano dei sette comuni e i 131 comuni sardi che hanno aderito a questa iniziativa coordinati dal comune di Armungia rappresentato dal sindaco ingegnere Antonio Quarto che nel progetto svolge un ruolo di comune capofila. La presenza di Armungia è significativa perché è il paese di origine del capitano Emilio Lussu eroe pluridecorato della Brigata Sassari, autore del libro Un anno sull'alto piano ambientato in questi posti.